Bentornati in un nuovo video, qua è Gigi e siamo pronti a questo spacchettamento come potete vedere Sono 5 bustine di calciatori panini gommaglie In questo caso troveremo una bustina di calciatori più un pacchetto che usciranno una gomma da cancellare Però penso che non cancelleremo nulla con questa bella figurina In questo caso potete vedere, mi è uscito il Genoa, vediamo il flash, ecco qua, si mette a fuoco Il Genoa e poi abbiamo la Lazio Ok, adesso andiamo con lo spacchettamento Speriamo di trovare come al sordo, speriamo di trovare sempre quella che mi sta più a cuore a me Allora, preso, buttiamo qua, il bustino ce lo vediamo per dopo e spacchettiamo questo Già vedo un bel colore L'accetto ce lo vediamo dopo e vediamo un bel Veruna Non male però, non mi serve a nulla Andiamo dopo quest'altra e poi dopo spacchettiamo tutto il bustino Andiamo con la seconda Lo usiamo qua e apriamo questa Spero di trovare solo quella là che mi piace a me, poi le altre me le tengo giusto per ricordo Un'accetto Lo mettiamo qua, questa la buttiamo e voilà Bologna, va bene, Bologna Diciamo che potremmo fare meglio Meglio, diciamo che potremmo uscire qualcosa di più sostanzioso Andiamo con la terza La bustina messa qua Apriamo il pacchetto con la gomma L'accetto fondamentale E... Voilà Un'altra Bologna Così Non annulla Due Bologna Va bene Non c'è due senza tre Diciamo che era quattro a vincere Le ultime due speriamo che non esce Bologna Pettiamo un bustino qua Ecco qua L'accetto qua E voilà Torino Granata Meglio questi che Quella tra la di Torino Molto meglio questa Andiamo con l'ultima E poi spacchettiamo le figurine Sperando di trovare qualcuno che ci manca Ah, possiamo vedere qua Redo della bustina Tutte Le figurine E tutti Tutti Gomme più Belle che sono E tutte le squadre da sera Io spero di trovare questa qua Questa qua Qua Bellina Celeste Celeste Andiamo Con l'ultima Mettiamo la bustina qua Questa qua Abbiamo un po' di bondizia Avriamo l'ultima Sempre Girata Non so come faccio a prendere L'accetto Mettiamo qua E l'ultima La giriamo Piano piano E Napoli Mamma mia Avevo detto di trovarla E l'abbiamo trovata Subito Subito Alla quinta bustina Però abbiamo trovato la figurina del Napoli Ottimo E questa me l'avete vicino Alle altre magliette Che c'ho del Napoli E poi altre figurine del Napoli Speciali che c'ho Ottima questa Ottima questa Ce la teniamo Adesso andiamo con lo spacchettamento Direi di fare una volta Senza che Vediamo Allora Codice panini che non serve a nulla Giriamo la figurina Allora Parma Mojka Gollini Lasovic E Frosinone Scudetto e Frosinone Per il momento Niente di che Volevo andare un po' di meglio L'importante è che abbiamo trovato Questa La metto qua Sperando che si vede Andiamo con quest'altra Vediamo questi Che non servono a nulla Allora Torino Vincenzo Millico Tre dei giocatori del Pescara Blaywatch Grande partita Rachmani Napoli E Miranciuk Questo qua lo mettiamo da parte Allora Ottimo Rachmani Vediamo se ci fanno trovare Parchi giocatori del Napoli Sarei contentissimo Andiamo con quest'altro Andiamo con la terza bustina Allo squadra Se non sbaglio Del Crotone Poi Tre giocatori Del Cremonese Della Cremonese Coppa Italia Che non serve a nulla Ante Rebic E Luca Marrone Niente di che Però Abbiamo trovato L'importante è che abbiamo trovato La maglia del Napoli E un giocatore del Napoli Andiamo con L'ultime due Milanista Allora Simon Cagliar Duncan Petriccione Quattro scudetti Delle squadre Che Allora Vibonese Turris Francavilla E Viterbese E poi Kevin Lasagna Che non serve a nulla Però Ce lo teniamo Andiamo con l'ultima Sperando di trovare Almeno un altro giocatore del Napoli Concludiamo I grandi Paccopene di questo Calciatori con Maglia Allora Il primo è De Paoli Atalanta Squadra femminile del Milan Chiria Populos Del Sassuolo Tersino Altri quattro scudetti Della serie Penso sia Palermo Potenza Teramo Eternana Poi Tuia Tacci Tuia E Basta Allora Finito lo spacchettamento Abbiamo trovato Questa Ottima Per me queste vale Più di tutto Di pacchetti che ho aperto E poi abbiamo trovato Rachmani Che va bene Comunque Lo spacchettamento Finisce qua E noi ci vediamo al prossimo video di Cacciatori Panini Se le volete altri me lo fate sapere E noi ci vediamo al prossimo video Lasciate like Iscriviti al canale E ci vediamo al prossimo E noi ci vediamo al prossimo video di Cacciatori Panini